L'ultimo Consiglio Comunale di Pesero ha deliberato la proposta di statalizzazione di una scuola dell'infanzia comunale, vale a dire la giostra di Via Filzi per quanto riguarda la programmazione della rete scolastica 2025-2026. Una delibera volta a rispondere alle richieste degli istituti comprensivi Olivieri e Villa San Martino che chiedevano la statalizzazione delle scuole dell'infanzia alla giostra e a Ambarabà della Tombaccia, richiesta accolta per la giostra in una strategia volta a liberare risorse personale per la fascia più critica delle politiche educative pesaresi, ovvero quella dei nidi fra 0 e 3 anni. Già in campagna elettorale devo dire che avevo messo nel programma insieme a tutta la coalizione il fatto che il modello delle politiche educative del Comune di Pesero aveva bisogno di una maggiore flessibilità, cioè una capacità maggiore di dare le risposte a quelle che sono le esigenze innanzitutto delle famiglie, ma famiglie che nel corso degli anni sono cambiate e quindi ci serve un servizio più flessibile, ad esempio tra quelli che sono 0-3 anni o 3-6 anni per garantire più posti negli asili. L'obiettivo di questo nuovo modello ha un unico obiettivo, cioè quello di creare maggiori posti negli asili. Per fare questo abbiamo bisogno di rimodulare quella che è la percentuale di asili che sono gestiti direttamente dal Comune, quelli che sono gestiti dallo Stato e quelli che sono gestiti con le cooperative. Quindi dobbiamo rivedere un po' il modello messo in campo fino ad oggi, sapendo che comunque il coordinamento socio-pedagogico rimarrà in capo il Comune e questo garantirà sicuramente la qualità uniforme in tutti gli istituti, in tutti gli asili che andremo a mettere in piedi. Ricordo che noi entro un paio di anni avremo un nuovo asilo nella zona della Torraccia con 90 posti, anche qui per riuscire a mettere dentro il personale se andavamo avanti con il modello di prima era impossibile riuscire a aprire quell'asilo, ma noi cercheremo anche di aumentare i servizi in tutti i quartieri della città.